Oh quanto mi piacciono le feste. Vieni Pooh. Che accadrebbe se ti dimenticassi di me? Sciocco di un orsetto. Quanto è cambiato Christopher Robin dall'ultima volta che l'hai visto? Beh se ricordo bene è più alto di quanto mi ricordassi. forse sono cresciuto anche io. Chissà se ancora mi riconoscerà. Ho promesso di portare via mia moglie e mia figlia signore. Ci serve anche lei. Non verrai al cottage? Non ho altra scelta. La vita è il presente, è davanti a te. Quanto ti sei divertito a fare questo film? Mi hanno permesso di fare le mie acrobazie e a volte perfino di proposito. Prima di andare avanti, non avresti per caso un po' di miele? Eh già, che fare? Pooh. Christopher Robin. No. Cos'è che sorprenderà il pubblico di questo film? Beh, a Tigro piace fare sorprese a tutti, ma è un'abitudine seccante. Pooh, perché sei qui? Oh, ecco, mi serve il tuo aiuto. Non trovo più i miei amici. Li cercheremo insieme. Cosa la ti ha portato a fare questo film? Beh, è come se la parte fosse scritta per me, strisce comprese. Ecco perché non ho letto il copione. La perfezione non ne ha bisogno. Entro. Sono rimasto incastrato. Hai mangiato del miele? No, non ho mangiato miele. Cos'è che ti ha spinto a fare questo film? Sì, eh...quando può ha detto che lo avrebbe fatto, ho detto sì sto. E poi...avevo troppa paura di dire no. Oh, rabbia. Oh, cielo, cielo. Io non sono mai stato allegro. Dicono che niente sia impossibile, ma niente io lo faccio sempre. No, Pooh, significa...lasciamo stare. Ho, ho!